Carissimi amici ed amiche di San Severo, il mio pensiero è sempre rivolto a voi nelle mille difficoltà quotidiane. Siamo qui per presentare le occasioni di incontro turistiche che la città, la provincia di Foggia, offre a tutti gli italiani e a tutti i turisti. La presenza della Puglia qui alla Bit di Milano è in grande spolvero. Stiamo per presentare lo spot di Sergio Rubini che rappresenterà la nostra volontà di accoglienza. Noi ovviamente sappiamo che il turismo è un business ma è soprattutto un valore umano perché per noi l'accoglienza non è solo un fatturato, è una occasione per stringere legami, per spingere le persone a tornare da noi, a rivedere le loro fotografie con i loro bambini e bambine che crescono e che amano la Puglia di generazione in generazione. Questi valori noi li chiamiamo pugliesità, li chiamiamo Mediterraneo, li chiamiamo Italia.